E' da fastidio questo slice basso e corto, è obbligato a piegarsi Safin, 3 a 2 Federer, lo svizzero lo sa infatti gliene gioca molti, questo è il genere di colpi, stava utilizzando molto lo slice Federer, qui stiamo vedendo, sono due tipi un po' nervosetti, l'hanno spesso con la loro racchetta, Federer è migliorato molto, comunque sta maturando, Safin è rimasto lo stesso negli anni, Federer soprattutto a livello junior era ancora più nervoso.